a fare quella cosa ma sapete che prendi la cannuccia dovete portarla qua e poi e nell'acqua faccio l'acqua ci proveremo con una cannuccia a me o due ovviamente ok ho preso la cannuccia ora mi schicco i capelli spero che finirla però prima che mi bagno perché se no non c'è più speriamo l'acqua funziona un po' sta funzionando potete che riprovo di più un po' sta funzionando povera cannuccia hai perduto il combo che te ci ha mandato tu capis per chi come mi vedete bene come mi vedete ok ok allora no 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 chiusi ora non mi sembra come vabbè ora è rispetto ora perché Grazie a tutti.